...dei mondiali del 70. Il Peru, rinvigorito da successo per 3 a 2 contro la Bulgaria, però dice no. E i peruviani si portano in vantaggio. La difesa marocchina non funziona come contro la Germania. Tre minuti dopo, Ciales sorprende un'altra volta la difesa marocchina. E Kubias, in acrobazia, porta il punteggio sul 3 a 0. Neanche un gatto con la grazia di Al-Alcazu può originare i peruviani. Altre buone nuove per il Peru, grande delusione per il Marocco. Vince il Peru 3 a 0.